Come sempre iniziamo il nostro appuntamento con Gazzetta del Sud Online per andare a vedere di cosa si occupa oggi il sito online di Gazzetta del Sud quindi partiamo per questo nuovo appuntamento con i giornali in tv con le notizie della nostra regione in questo caso Gazzetta del Sud Online nell'edizione Catanzaro, Crotone, La Mezzia Terme e Vibbo quindi si parla di trasporti, in questo caso a Vibbo servizi pubblici inesistenti, scrive Gazzetta del Sud l'imbarazzo delle autoline private Andiamo a Crotone, ci spostiamo a Crotone processo sulla gestione della piscina di Crotone sono state chieste sei condanne quindi questo processo è nato dall'inchiesta sulla gestione dell'impianto appunto della piscina di Crotone che nel 2019 portò tra l'altro alla caduta dell'amministrazione comunale di Crotone restando sempre in ambito comunale questa volta però ci spostiamo alla Melsia dove leggiamo il monito del presidente dell'Assise cioè del presidente del Consiglio Comunale Giancarlo Nicodera ora rimbocchiamoci tutti le mani Giancarlo Nicodera richiama i consiglieri comunali a lavorare insieme per il bene della città questo scrive Gazzetta del Sud Online c'è anche la notizia di una tragedia sfiorata nel mare di Davoli un giovane è stato salvato da un cittadino poi a Catanzaro il nodo imu per parco romani i piccoli proprietari spremuti episodio di cronaca nera leggiamo anche ferisce un giovane gli trovano armi e droga in casa è stato arrestato un ventenne del clan Gallacce di Guardavalle a Catanzaro scuola di località Signorello nuova genesi incontra i genitori e l'assessore Belcaro per analizzare e risolvere i problemi l'importanza delle attività sportive nella scuola alla Melsia due calciatori del Catanzaro protagonisti scorriamo ancora la OM di Gazzetta del Sud rinnovata a squillace la memoria della traslazione delle reliquie di Sant'Agazio poi Catanzaro la tezzina della legalità incontra gli studenti al liceo De Nobili sempre Catanzaro tedesco della CSA CISAL lavoratori pendolari al freddo e al vento ripristinare la fermata autobus nell'area interna della cittadella poi atropea il rogo al ristorante Little Italy il sindaco Macri incendio di natura dolosa con occhiella allinearsi sui LEP o l'autonomia differenziata sarà la ciliegina sulla torta della malisanità calabrese parliamo di maltempo il ministro per il Sud Musumeci annuncia fondi per le emergenze oltre 15 milioni per la Calabria registriamo purtroppo un altro incidente un frontale tra due auto accessaniti due i feriti trasportati all'ospedale di Vibbo Valencia questo quanto abbiamo letto dalla OM le notizie principali dell'edizione Catanzaro Crotone la mezza terme e Vibbo di Gazzetta del Sud restiamo sempre online questa volta andiamo anche al sito illametino.it dal sito illametino.it leggiamo questa notizia che riguarda un concerto a Macalabria è presente il concerto ensemble i soliti aquilani con Giuliano Carmignola poi alla Mezzia ennesima perdita idrica nel quartiere Bella in questo caso appunto la zona interessata del quartiere Bella disservisi in diverse zone del centro di La Mezzia truffa, è un'altra notizia, truffa il falso ideologico denunciato un dirigente medico dell'aspo di Cosenza sequestri per oltre 100 mila euro sequestrate nel porto di Gioia Tauro 251 auto rubate in Canada alla Mezzia Terme tempi incerti per la nuova giunta dopo le dimissioni di due assessori sempre alla Mezzia Terme dall'1 al 4 febbraio ritorna la fiera tradizionale di San Biagio sarà prolungata di un giorno questa è la fiera appunto esterna nelle aree esterne appunto che riguardano molto prodotti tipici e quant'altro da non confondere con fiera agricola ex FIMPA ricordiamo la fiera internazionale del mezzo e del prodotto agricolo inizionale nel 1971 poi fu trasformata in fiera agricola ente fiera la Mezzia però questa ente fiera la Mezzia è fallita non c'è più dal 2018 quindi torna la fiera quella tradizionale esterna con le bancarelle venditori ambulanti e quant'altro ma non la storica fiera agricola ancora prima FIMPA che è definitivamente fallita nel 2018 non stata più riattivata andiamo sempre alla lamettino.it Abramo Customer Care incontro di occhiuto al Ministero una proroga di altri tre mesi per i lavoratori alla Mezzia al via i lavori messi in sicurezza delle bonifiche del risanamento dell'ex discarica di località Bagni alla Mezzia inaugurati nuovi laboratori enogastronomici dell'istituto alberghiero in Audi di la Mezzia la soddisfazione del dirigente scolastico alla Mezzia ci sarà la presentazione del calendario per gli eventi per il centenario del poeta Franco Costabile appuntamento conferenza stampa il 19 di gennaio alla Mezzia il coordinamento cittadino di Forza Italia sul polo integrato a Spinaide bisogna avviare iniziative per offrire servizi migliori ai cittadini scrive leggiamo appunto dal lamettino punto it con questa nota del coordinatore cittadino di Forza Italia Salvatore De Biase poi ancora sequestrati quasi sei quintali di ascici in un box nel milanese in manette anche un calabrese riunione di azione alla Mezzia pronti con il nostro simbolo per l'elezione comunale europea riunione regionale poi elevate temperature c'è la chiusura temporanea delle piste da sci all'Orica poi alla Mezzia il 26 il 20 di gennaio incontro come un risveglio il presepe di San Francesco di 800 anni fa alla Mezzia è prevista venerdì 19 gennaio alle 15 e 30 una lezione magistralis del senatore Pier Ferdinando Casini lezione magistralis sui nuovi scenari geopolitici per l'Italia nel Mediterraneo questo appuntamento si terrà venerdì 19 gennaio alle 15 e 30 nell'aula magna della scuola superiore università per mediatori linguistici di La Mezzia Terme in via Po la Lipo Lega Italiana Protezione Uccelli presenta mappa delle aree dell'eorico sensibile per gli uccelli alla Mezzia Terme Amma Calabria annuncia il 19 gennaio lo spettacolo Lo Schiaccianoci al Teatro Grandiretti il Balletto Russo poi ricordiamo la tragedia del Mottarone al Via il processo anche due calabresi fra le vittime del Mottarone quando appunto ci fu questa questa tragedia furono 14 le vittime 5 famiglie devastate dall'incidente di Stresa ricordiamo appunto questa questa tragedia tra questi ci furono vittime calabresi Serena Cosentino di 27 anni di Diamante ricordiamo appunto questa tragedia quando negli impianti sciistico appunto alcune persone erano sulla funivia che poi è acceduto e appunto queste persone persero la vita tragicamente questo episodio questa tragedia ricordiamo in cui che fece registrare le vittime calabresi Serena Cosentino è un'altra un'altra calabrese ricordiamo che questa 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 tragedia avvenne nel nel marzo nel mese appunto di marzo ricordiamo appunto sul posto 5 famiglie ecco stiamo leggendo 5 famiglie furono sterminate in questa incredibile tragedia la funivia Stresa Mottarone che è acceduto appunto è andata appunto ha fatto un volo di molti metri andiamo ora ad un'altra notizia Regione nuovo avviso pubblico per sostenere l'internalizzazione delle imprese maltempo dal Consiglio dei Ministri anche qui altri 15,6 milioni di Euro per la Calabria poi c'è questo fatto un altro fatto di cronaca si ustiona mentre accende il camino grave una donna nel Cosentino andiamo a Conflenti ritorno alla Summer School sul turismo trasformativo e sostenibile accordo tra l'Università di Northampton e il Comune di Conflenti bene dopo Gazzetta del Sud della Metina andiamo alla Quotidiano del Sud l'edizione cartacea del Quotidiano del Sud dunque leggiamo questa notizia che ci ricorda un'altra tragedia mia figlia uccisa a morsi dai cani è ancora un dolore insopportabile le parole di Alfio Cavallaro padre della giovane ragazza deceduta nel soveratese ricordiamo nel 2021 che fu presa a morsi da cani randaggi una incredibile tragedia e l'avevamo letto anche poco fa la crisi dei call center l'avvertenza Abramo altri tre mesi per trovare una soluzione definitiva l'incontro al Ministero con Occhiuto si chiude con una ulteriore proroga della commessa da parte di Tim ora pensare a come stabilizzare i circa mille lavoratori aree interne il modello di Sant'Agata del Bianco ritorno ai campi e alla nostra cultura a Marina di Gioiosa minacce rivolte alla ditta che sta lavorando in un bene confiscato la battaglia sul disegno di legge Calderone cosiddetta autonomia differenziata contro l'autonomia differenziata si sta battendo molto il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita mobilitarsi per fermarla poi Catanzaro zona economica speciale unica l'assessore Borelli ritardi da recuperare Comune di Reggio dopo la nuova giunta effetto domino sul centro-sinistra Vibo Valenza il commissario dell'ASP scovati dieci dipendenti imboscati Crotone processo alla piscina il PMRO chiede sei condanni a Varapodio il parroco sta meglio è stato identificato l'aggressore del parroco l'avvio dell'iter il castello di Caccuri di interesse culturale imprese export il bando regionale da 5 milioni Reggio Calabria truffe agli anziani altre tre denunce sullo ponte per quanto riguarda il ponte sullo stretto di Messina all'interno delle pagine del quotidiano del sud un progetto vecchio di 12 anni aggiornato in sole 24 ore Salvini assicura l'apertura dei lavori sarà nel 2024 intanto Bonelli dice che sembra uno scherzo presenterà un'ennesima interrogazione perché appunto ritiene che questo sia un progetto di vecchio di 12 anni sarebbe stato aggiornato in sole 24 ore alluvione in Emilia Romagna Melonia Forlì incontra Fonderlain Ucraina Putin prepara una escalation nei paesi baltici ecco qui la targine sul Mottarone al via la prima odienza il piccolo Eitan è l'unico sopravvissuto quindi un sordo tonfo e questa è l'impressione che in Calabria sulla costa del terreno Cosentino migliaia di persone hanno avuto in quel tragico triste 23 maggio del 2021 intorno al 12 e 30 quando sul 12 e 30 quando sul Mottarone tra le province di Verbani e Novara si consumava la tragedia della funivia la cabina appunto precipitava questa cabina provocando le vittime di cui abbiamo già parlato anche qui Fiorita il sindaco di Catanzaro invita a mobilitarsi contro l'autonomia differenziata l'intervista al sindaco di Sant'Agata del Bianco Domenico Stranieri il modello Sant'Agata ritorno ai campi e alla nostra cultura inchiesta sul randaggismo un labirinto di responsabilità delegate ai volontari l'anomalia sono i comuni è quanto emerge dalle parole di Giorgio Piraino responsabile per la regione Calabria della medicina veterinaria e del randaggismo randaggismo che ha fatto una vittima in Calabria mia figlia uccisa a morsi dai cani ancora un dolore insopportabile dice Alfio Cavallaro che parla della morte di Simona la figlia sbranata da un branco di cani nel 2021 a Satriano nella Soveratese altri tre mesi di proroga per i lavoratori del call center a Bramo poi un bando da 5 milioni per puntare a nuovi mercati perché serve introdurre il reato di omicidio e lesione sul lavoro assemblea pubblica di potere al popolo che insiste per inserire il reato di omicidio e lesione sul lavoro visto appunto le tanti morti bianche che ogni anno purtroppo si registrano Marina di Gioiosa Ionica minacce a una ditta nel bene confiscato estradato dalla Germania l'ex latitante Crivello zona economica speciale unica ritardi da recuperare l'assessore comunale di Catanzaro Borelli ciascuno dovrà assumersi le proprie responsabilità partirà l'1 marzo la ZES unica sostituendosi alle 8 aree designate tra cui la Calabria dal comune di Catanzaro i beni in dismissione valgono quasi 3 milioni di euro beni che il comune di Catanzaro mette in vendita comune di Lamezia conflitto di interessi al concorso l'ANAC l'autorità nazionale anticorruzione si è espressa in un caso simile avvenuto a Lamezia un anno fa quindi l'ANAC ha reso noto che dovrebbe esserci l'obbligo di astensione nel caso in cui sia configurabile un legame di frequentazione è un caso analogo che è successo un anno fa quando vinse il concorso da dirigente al comune della Mese a Virginia a Bufano ma nella commissione giudicatrice c'era intanto il presidente di quella commissione aveva lavorato insieme a Virginia a Bufano alla regione Calabria e anche altri componenti della commissione che hanno giudicato la Bufano che poi ha vinto il concorso avevano lavorato con la stessa Bufano all'università della Calabria all'Unical la denuncia scuola al freddo personale docenti alunni in aula con i cappotti tutto questo perché i radiatori non sono funzionanti quindi all'istituto scolastico Borrello Fiorentino da quando si è rientrati dalle vacanze natalizie nel plesso Borrello in piazza 5 dicembre al primo piano non funzionano i radiatori dei corridoi e tutto il personale della scuola docente ata ma anche i bambini gli alunni muoiono dal freddo nonostante indossino durante le lezioni durante le ore di lavoro il personale indossino cappotti giubini sciarpe berretti e quant'altro insomma c'è questa denuncia a proposito di scuola ma una notizia completamente diversa l'importanza di fare sport due calciatori del Catanzaro ospiti al liceo scientifico Galileo Galilei Edoardo Borrelli e Davide Veroli hanno raccontato alcuni aneddoti della loro esperienza di calciatore un cortocircuito ha causato un incendio in una libreria del centro di La Mezzia Time in via Carducci l'iniziativa giovanilmente scalda i motori incontra il tuo prossimo incontra te stesso il tema della nuova edizione di questo concorso per le scuole superiori di primo e secondo grado di La Mezzia e dei comuni del Lamettino a Gizzeria il comune di Gizzeria ha approvato il piano di riparto per l'anno scolastico in corso quindi fondi per il servizio mens e per il trasporto scolastico anche qui a Conflenti è stata firmata un'intesa tra l'università di Northampton e il comune di Conflenti in previsione della summer school estiva al teatro riparte la stagione teatrale ricri lo spettacolo sold out per il balletto lo schiaccianoci al teatro Gradinetti il 19 di gennaio come leggevamo al teatro c'è questo spettacolo del balletto russo che ha creato anche qualche polemica ricordiamo che nei giorni scorsi le associazioni ucraine in Italia hanno chiesto l'annullamento di questo di questo spettacolo il processo piscina dicevamo a Crotone il PM che ha chiesto sei condanne ancora truffe ad anziani sempre a Reggio ma sono stati casi anche alla Mezzia ci sono state in questo caso altre tre denunce in questo caso alla Mezzia ricordiamo che ci sono stati degli arresti per queste truffe agli anziani a Vibbo Valencia nell'azienda sanitaria provinciale di Vibbo Valencia è stata fatta pulizia parla il commissario dell'ASP di Vibbo il generale Battistini che accenna l'inchiesta maestrale e sul personale sono stati scovati dieci dipendenti imboscati negli uffici la sentenza tentato omicidio di un agente di polizia condanna per il figlio del boss Peppe Mancuso i lavori in piazza Buccarelli a Vibbo riportano alla luce antiche Basole tangenziale est a Vibbo c'è stato un processo tutti assolti a Tropea il Consiglio Comunale da via libera al bilancio della Comune di Tropea i sanitari aggrediti devono essere protetti dice il sindacato Will e poi a Tropea come dicevamo in un bene confiscato dalla mafia dimora per le vittime di violenza progetto del Comune e sempre a Tropea ristorante distrutto in città accertata la natura dolosa c'è la solidarietà del sindaco di Tropea il ristorante Little Italy come abbiamo già letto nelle scorse ore nelle scorse edizioni dei giornali in tv a Filadelfia tessitura orientale copta e calabrese scrive sempre il quotidiano del sud poi l'iter per dichiarare il castello di Caccuri di interesse culturale l'incontro del coordinamento regionale del Consiglio internazionale dei musei ci torneremo tra poco sulle pagine del quotidiano del sud perché prima come sempre prima di avviarci la conclusione appunto con lo sport andiamo anche passiamo anche alla nostra edicola digitale con le prime pagine dei quotidiani nazionali oggi in edicola quindi leggiamo andremo a dare uno sguardo passeremo rassegna intanto soprattutto i titoli principali insomma delle prime pagine dei quotidiani nazionali iniziamo come sempre con la prima pagina del Corriere della Sera alluvione fondi patto con l'Unione europea la Repubblica regalo ai corrotti la riforma della giustizia che prevede l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio la stampa le navi italiane nel Mar Rosso poi libero ecofessi e compagni la rivolta dei Somari il giornale l'allarme di Giorgetti nuovi timori eh sull'inflazione il fatto quotidiano nordio cura il febbrone abolendo il termometro la verità sventato l'ultimo agguato del PD parte la commissione sul covid e poi ancora il tempo avanti con la riforma della giustizia il messaggero patto servono meno vincoli domani il governo punta sulle privatizzazioni ma intanto si compra ilva e rete team il sole 24 ore sui tassi lagarde l'u delle borse l'unità suicidi in carcere nordio dice sono cose che succedono poi ancora sul manifesto l'ultimo miglio riferimento alla foto di demesso Calderoli a proposito della legge sull'autonomia differenziata poi fine vita polemiche velene scrive il gazzettino il mattino patto di stabilità più soft il dubbio Derao la tocca piano volete zittire la stampa come fanno i mafiosi il secolo XIX Iran la guerra è un contagio il resto del Carlino candidature scoppia il caso Solinas la notizia come sempre a centro pagina sequestrati a Solinas 350.000 euro il match in Sardegna tra Melone e Salvini finisce per knock out del governatore sul leggo questo titolo principale disturbi alimentari tornano i fondi il quotidiano del sud l'altra voce dell'Italia il teatro assurdo dell'autonomia la lega sottoscrive il blocco di fratelli d'Italia sui fondi pur di vendere fuffa alle europee la discussione Meloni in Emilia Romagna dal PNRR 1,2 miliardi in più alle zone alluvionate Davos Blinken a Gaza situazione straziante Lagardi i tassi hanno raggiunto il picco come sempre prima di arrivare alla conclusione andiamo anche a dare uno sguardo intanto alle prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali la gazzetta dello sport Inter rabbia rabbia al max battute e veleni nel testa a testa con la Juve poi ancora sul corriere dello sport stadio Juve in basso marcia da scudetto il taglio basso poi su tutto sport la foto di Vlaovic Lautaro dell'Inter quindi a bomber pari Dusan quindi Vlaovic rompe nel duello scudetto in retroscena della rinascita Allegri e il gruppo hanno rigenerato Vlaovic la Juve ha il suo Lautaro questo era sempre sulle pagine dei quotidiani sulle prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali eccola qua la battuta che ha creato delle polemiche la leggiamo sul quotidiano del sud di Massimiliano Allegri l'allenatore della Juve Juventus e Inter come guardie ladri Allegri mette benzina sul fuoco loro scappano e noi rincorriamo serie B il Catanzaro si dirige su Seadot appunto un nuovo acquisto intanto un nuovo un nuovo obiettivo di mercato del Catanzaro attaccante della Cremonese sembra quello più appetito in ottica futura per quanto riguarda il Catanzaro sempre in serie B Cosenza a destra arriva Ghianfi per parte di centrocampo arriverà uno tra Dariva Sennigoi e Kohan dovrebbe essere ufficializzato l'esterno proveniente dal potenza Ghianfi Zilli verso la spalla il Crotone quindi andiamo in serie C il Crotone Marrone e Stronati il primo potrebbe arrivare dall'Ecco il secondo vicinissimo a Rosso Blu ufficiale all'acquisto dell'esterno Ovisac che resta a Giuliano si è giocato un turno infrasettimanale in serie D la Vibonese Corsare in Sicilia vince 3 a 2 a Ragusa Primereti per Favetta e il solito Timbro 18 nei locali i locali di Ragusa appunto in Domiti fino alla fine affermazione Rosso Blu in casa di Ragusa e adesso domenica c'è la Capolissa nel Mirino infatti domenica è previsto Vibonese Trapani Trapani che è in testa della classifica la Vibonese che insegue da terza a 49 punti quindi a 4 punti di stacco dalla Trapani 53 e Siracusa invece secondo a 52 domenica Luigi Razza in programma Vibonese Vibonese Trapani Castrovillari a Trapani tutto come da copione il Trapani batte 3 a 1 il Castrovilla Reggio Calabria si pensa a domenica Reggio Calabria invece ha riposato il San Luca batte l'Igea Virtus 3 a 0 quindi il San Luca allunga la serie utile e torna in corsa per la salvezza perde la Gioies 0-2 corre al Casalnuovo vittoria importante pesantissima dell'Ocri a Portici quindi vittoria pesantissima dell'Ocri in casa del Portici 3 a 1 questo appunto il quadro del girone I della serie D che ha osservato un turno infrasettimanale domenica si tornerà di nuovo in campo naturalmente con la serie D ma anche con la B e la serie C e con l'Eccellenza Calabria se vi rimandiamo all'appuntamento settimanale sempre su STV a tutto calcio intanto abbiamo concluso con lo sport il nostro nuovo appuntamento con i giornali TV come sempre da Pasqualino Rettura un grazie per l'ascolto per l'attenzione per averci seguito fin qui e naturalmente vi diamo appuntamento alla prossima edizione A presto